La scuola a tutti e la scuola a tutti. Tori, Tori ci sanno riprendenti. Tori, Passo. Minchia. Chi ha schifo finisce stasera? Chi ha dato la presentazione a filmare a lei? Io parassi. Ha parlato per caso con il padrino o con qualcun altro? Faccio io con il padrino, buonasera. Buonasera, buonasera. Perché a noi le persone che parlano non ci piacciono. giuri 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 di tutto l'anno l'amore c'è il rastrino sogno giuri 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 di tutto l'anno grazie a tutti 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 grazie a tutti